Musica Ciao a tutti ragazzi sono Coridan ancora una volta ben ritrovati sul mio canale proseguiamo la nostra serie di subnautica e oggi cercheremo di farci la tuta antiradiazioni che hanno inserito nel gioco e vedremo di visitare i relitti della nave distrutta sul pianeta della nostra astronave madre che ci ha catapultato in questo pianeta oceanico siamo all'interno della nostra base guardate bello vi ricordate l'episodio precedente del tutorial ci siamo fatti la prima basetta sott'acqua proprio sotto il modulo di usarvataggio giusto per farvi vedere nel tutorial come si costruiva qui c'è il nostro simut parcheggiato qui c'è la nostra power cell quindi direi che è il momento di entrare all'interno e andare a scoprire cosa ci vuole per costruire la tuta antiradiazioni anche perchè se no scoppieremo come le buste tempo zero simut fragment ok andiamo su hanno inserito nell'ultima patch sperimentale le esplosioni porca troia ragazzi hanno inserito le esplosioni alla nave nell'ultima patch ora si che è un casino avvicinarsi eh allora comunque a parte sta paura siamo ancora una volta ragazzi nella versione sperimentale perchè stanno aggiornando molto più quella che il gioco normale ma non perchè hanno abbannato il gioco per il fatto che aggiornano appunto la versione sperimentale per poi inserirla nella versione di base del gioco e buttare tutto quanto fuori vedete premendo il tab adesso abbiamo ovviamente i nuovi blueprint abbiamo qualcosa di nuovo ma soprattutto nell'inventario hanno messo finalmente la possibilità di equipaggiare la tuta del personaggio vedete c'è lo slot per il casco qui ci da il livello di radiazione e tutto quanto c'è lo slot per il casco lo slot questo non lo so se sono per dei chip o cose particolari di anziani nel casco però il casco non dovrebbe ancora essere presente le scarpe e la tuta quindi finalmente anche il nostro personaggio inizia ad avere uno spessore non più essere qualcosa di astratto ovvero che manco si vede nel gioco ma finalmente potremo equipaggiarlo quindi ci dovrebbe essere la possibilità di trovare appunto dei fragment a giro per il mare vedete questi sono i fragment per il Seamut come vi ho ricordato in uno dei primi episodi si prendono si spostano qui e quando ne abbiamo quattro la macchina inizia a lavorare e ci tira fuori il nuovo blueprint che in questo caso sarebbe appunto il Seamut la navetta quella che usiamo di base quindi ne servono sempre quattro messi qui così nel quadrato per tirare fuori l'oggetto finito allora aprendo la cassa vediamo no c'ho sempre la solita roba e nel Fabricator ci sarà la possibilità appunto tramite questi fragment di sbloccare finalmente la tuta antiradiazioni che come vedete figata possiamo inserire e metterci addosso quindi la missione da fare quale sarà e non ve la mostrerò eh 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 radiazioni 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 eh iniziamo ad essere un po' troppo siamo un po' troppo vicini alla nave meglio se mi allontano oh cazzo meglio se mi allontano un pochino perché sono iniziando a prendere le radiazioni avete visto le radiazioni ragazzi adesso arrivano molto più lontane arrivano veramente molto più lontane rispetto a prima guardate quanto mi sono dovuto allontanare per riprendere un po' di vita e inizia il gioco il gioco si fa duro perché ora la nave esplode guardate guardate le radiazioni che ci riprendono e quindi dobbiamo allontanarci decisamente quindi già dove abbiamo fatto la base sott'acqua e la capsula ci sono già le radiazioni quindi cosa dovete fare voi adesso ve lo mostrerò in un altro video magari si magari no oddio 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 alte radiazioni proprio stare in acqua si prendono le radiazioni voi cosa dovrete fare dovrete assolutamente ragazzi andare sott'acqua esplorare i fondali marini che ora sono molto più radioattivi rispetto a prima e trovare queste casse qui eccone qua una questa è sempre per il simut trovare queste casse che vi consentiranno le quattro casse di costruire di trovare il nuovo Recype il nuovo blueprint si chiama così per finalmente costruire la tutta antirradiazioni e forse proprio sopravvivere stavolta perché il gioco ha dato uno spessore in più ovvero molte più radiazioni cazzo con questa bellissima alba e la nave maledetta che adesso inizia anche a scoppiettare guardate bello ragazzi hanno messo anche gli effetti di fuoco che cattiveria come vedete ci sono le radiazioni ma noi ne subiamo molto meno ci sta che la vita ogni tanto scenda dell'1-2% ho visto ogni tanto scende però l'abbiamo bloccata avete visto è scesa ora dell'1% ma scenderà molto più lentamente come vedete premendo tab mi sono fatto la tutta antirradiazioni che è questa qua ovviamente come vi ho detto serviranno mi sembra quanti sono voluti due o tre di silicone è facilissimo farla ma più che altro dovrete ecco le radiazioni che arrivano me la sono tolta e ve la rimetto subito sono schianto soprattutto più che costruirla che vedete serviranno due pezzi di silicone quindi li trovate in fondo al mare e col macchinario per fare il silicone vi ricordo andate qui direttamente andate nelle risorse e il silicone si fa con 2 di quarzo quindi vi bastano 4 di quarzo e avete fatto la tutta antirradiazioni voi a quel punto con la tutta antirradiazioni potrete avvicinarvi al bioma della nave e da quello che ho visto in altri video youtube e che mi avete chiesto anche esplorarla quindi direi che è il momento di andare in giro per i mari trovare le casse della radiation suite scendere tiè all'arrembaggio buttarci in mare prendere il nostro piccolo seamut e andare finalmente verso questa nave maledetta per vedere cosa troveremo no? secondo voi ci saranno pesci immensi mostri marini magari gente morta dintro che si risveglia tipo mostro abissale come il leviathan boh intanto avviciniamoci speriamo che di non morire ma vedo la vita è abbastanza stabile per quanto sarebbe lentamente oh stavolta si rischia un si va sull'isola si va proprio nel relitto cazzo qui davanti a noi avvicinandoci al relitto della nave quindi nuovo bioma sotto la nave perché prima non era esplorabile ma soltanto per il fatto c'era ma morivate di radiazioni abbiamo trovato una cassa scendiamo un attimo vediamo cos'è il simut fragment allora quasi quasi visto che ne ho 4 vi mostro una cosa ora noi prendiamo torniamo verso il nostro modulo di salvataggio iniziale e vi faccio vedere appunto il fragment collector come funziona torniamo dentro vediamo a che distanza è dovrebbe essere lontanissimo no dai ci siamo quasi immergiamoci la cosa bella di questo gioco ragazzi è che a dettagli ultra riuscire quasi sempre o comunque nella maggior parte dei casi avete visto anche i video in 60 fps appunto a farlo girare cioè ottimizzato bene è pesantuccio e tutta ad ultra un po' sperimentale ancora però per la bella grafica che ha direi che cavolo ottimizzato bene cioè 60 fps difficilmente riesco a farli su arma con tutta ultra qui invece li facciamo che vabbè c'è anche meno cose da gestire ovviamente non ci sono altri giocatori lo voglio vedere poi in multiplayer però cioè al momento ne sto facendo 120 ragazzi roba da da paura allora noi usciamo andiamo dentro il nostro modulo riservataggio escape pod mettiamo tutti i 4 fragments qua giù li mettiamo qua aspettiamo un attimino ce lo dovrebbe scoprire anche se già l'abbiamo scoperto vediamo un po' abbiamo messo 4 cmoth fragment qui dentro guarda sta lavorando vediamo un po' non ci dovrebbe mettere tantissimo ed eccolo new technology ha scoperto la nuova tecnologia e appunto ci ha buttato la nuova ricetta come vedete il nuovo blueprint per costruire il simut quindi come avete visto 4 oggetti messi nel fragment analyzer ci tirano fuori appunto un un recite nuovo un blueprint nuovo quindi ora abbiamo un blueprint per costruirci il nostro simut andiamo vai porco mondo ragazzi è immensa oh cos'è l'isoletta è veramente immensa ma ho paura a scendere non è che muoio boi non mi ero mai avvicinato così tanto alla nave che è questo ma io ho paura cioè qui muoio se mi avvicino c'è tutte queste esplosioni boia c'è proprio una montagna sommersa no sommersa insomma si sommersa in parte cioè ragazzi ho paura cioè qui c'è poi un'esplosione però ho visto che ci si può anche entrare in questa nave maledetta un po' spixelosa da vicino andiamo un po' cerchiamo di vedere da dove diamine si entra magari passandoci sotto ma mi sa che non ci passa da sotto cazzo boi ragazzi è grossissima ho pure più che altro di prima ma qui c'è un'isola lo vedi un po' se scendo spero di un morì tanto lo so la figura di merda la dovrò fare bote su bote un po' stai a vedere ci schianto subito speriamo che queste esplosioni non facciano danno terra terra e disse Coridan Colombo arrivando a terra che cosa strana ma ci potrei costruire una base qui si volendo ci potrei anche fare un foundation una base qui davanti ragazzi sembra un po' uno sfondo in png un po' veramente pixeloso è però guardate bello cioè finalmente siamo al relito della nave se mi tolgo la tuta quanto duro solamente 3 secondi eh si duro anche meno di 3 secondi quindi è meglio rimettersela ragazzi finalmente siamo davanti al relito cerchiamo di capire come si entra ora magari siamo a prua della nave guardate che popò di mostro assurdo che è ragazzi va sicuro mi sono voluti 10 minuti di gioco in cui non ho registrato per fare il giro completo della nave ma mi sembra di non aver visto nessuna apertura per entrare qui però strano perché in un video di youtube ho visto che c'entrava per esplorare all'interno però c'è guardate guardate che mostro veramente che è cioè fate conto era grande come come una città perché vabbè il simuto non farà i 200 km di orare sott'acqua però porca va per girarla tutta c'è un paese ci ho messo 10 minuti è immensa ragazzi è immensa speriamo si possa entrare perché mi gaberebbe esplorarla facciamo un giretto che fa un'impressione ragazzi ci stiamo passando sotto siamo sotto siamo a po' paura della nave ci stiamo passando sotto e porca a parte il buio di notte non vedo niente ragazzi è talmente grande che siamo in profondità di 55 metri e ci sono andato a sbattere cioè è immensa oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo non capisco più niente ho perso l'orientamento se io volessi risalire mi sa che ho perso la bussola ma così ci picchio minchia mi sono mi sono legato ragazzi allora retromarcia retromarcia verso il mare aperto ragazzi mi sono perso non ho orientamento perché sono nel buio più completo porca allora andiamo verso no ragazzi mi sono perso sentite bella anche la musichetta oddio mio ragazzi mi sono perso porco mondo non riesco più lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo che al buio dovevo merda 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 no no oh cazzo oh cazzo no 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 glielo lascio la nave tutta sua si merda come cazzo mi sgancio ora esco esco no no vaffanculo allora ragazzi non so veramente se la nave al momento sia esplorabile l'elitto della nave spero di sì l'abbiamo girata tutta l'ho girata tutta anche prima di registrare non ho trovato un'entrata non vorrei ora poi mi riguardo bene nell'altro video magari ci faccio un altro episodio non vorrei che quell'americano che ci ha girato il video a bordo magari avesse usato un trucco tipo noclip per passare anche perché l'avete visto quando ci si avvicina è bella pixelosa nel senso sembra quasi un'immagine 3d messa lì cioè non sembra una vera e propria nave esplorabile non ho trovato niente anche girandoci l'ho presa nel culo con Reaper Leviathan scendendo a profondità e vi ripeto ragazzi nella versione sperimentale guardate il video precedente no come si gioca la versione sperimentale ovvero andando su steam libreria giochi subnautica tasto destro proprietà avete una schermata in cima con varie sezioni prendete appunto l'opzione della beta scendete e selezionate versione sperimentale vi farà fare un download perché ovviamente è più portato avanti rispetto a questa versione qui ma sono tutte le cose che ci stanno facendo provare che poi saranno introdotte nel gioco acquistabili ovviamente cioè il gioco è sono provabili da subito quindi non è che qualcuno di tanto mi fa la domanda ma devo acquistare un altro gioco per provare queste cose sperimentali o partecipare a una beta no ti compri il gioco normale in più partecipi anche alla versione beta che stanno provando avanti portando avanti poi vi ricordo dovete trovare avete visto come funziona il fragment analyzer ce ne mettete quattro per trovare il per potervi costruire la tutante radiazioni che nella versione sperimentale di vitale importanza perché come abbiamo visto anche a una distanza di un chilometro fra un pochino dalla nave iniziamo a prendere radiazioni ma perché non è tanto la distanza dalla nave ma anche quanto l'acqua che inizia a essere conduttori di radioattività comunque ragazzi bleh fatevela prendere bene spero che questo episodio vi sia piaciuto tanti bei like per la serie di subnautiche che sta andando veramente bene e ci studio un po' se si può entrare dentro quella fottutissima nave nel prossimo episodio ci interrò ragazzi fatevela prendere bene ciao a tutti alla prossima non sapevo che dove trovare le via sana non lo sapevo ciao ciao ciao